Da Bagnoli a Pietrarsa, passando per Marechiaro, Posillipo e la Rotonda Diaz, Napoli ha una costa ricca e variegata, punteggiata da spiagge e da scogliere. Nell'incontro che si è svolto giovedì 31 nel centro polifunzionale San Francesco alla Gaiola, associazioni e comitati civici riuniti sotto lo slogan Una spiaggia per tutti hanno fatto il punto sulla situazione del litorale della città rilanciando la proposta di una spiaggia pubblica cittadina già da tempo al centro di iniziative sul territorio. L'assessore alle politiche sociali D'Angelo si è detto contrario all'eccessiva privatizzazione dei luoghi balneabili ed ha sostenuto l'idea di una spiaggia a gestione pubblica. Le coste della città di Napoli devono essere recuperate soprattutto da una funzione pubblica. occorre farlo chiedendo al Governo nazionale l'attribuzione della gestione diretta delle coste e questo accade nella maggior parte delle città più importanti d'Italia e al momento invece le nostre coste sono gestite dall'autorità portuale. In attesa che la Regione Campania ha vari le linee guida per la realizzazione di piani spiaggia che i comuni sono tenuti a realizzare. Sulla situazione delle spiagge napoletane è stato proiettato il documentario Il mare Bagnanapoli prodotto dalle cooperative Assistenza e Territorio e Il Calderone. Tutto il tratto di spiagge di Bagnoli, Nisida, Coroglio insomma che è assolutamente recuperabile, in parte è stato recuperato ma ad un uso esclusivamente privato. Insomma questo non va bene, vogliamo fare in modo che Napoli diventi una città accogliente ma anche turistica e trascurare questa straordinaria risorsa è stato un errore del passato che questa amministrazione non ci può consentire.